Quando una mappa inizia così mi piace subito, ci dobbiamo dividere alla partenza Non è una bella cosa Un'ottima notizia, è un'ottima notizia, io da una parte e tu da un'altra e ognuno sta per sé Allora, ti spiego subito cosa sta succedendo perché sei già preoccupata Cos'è una sfida? Se dobbiamo essere separati questa è sicuramente una sfida Guarda, si capisce da qui, ok, noi stiamo per andare lì sotto Ah, ok Ed è una sfida di minare, ok? Quindi praticamente dobbiamo partire, prendere dei blocchi, migliorare sempre di più, comprarci i picconi sempre migliori Di arrivare all'ultimo piccone che dovrebbe essere una roba super Ecco qua, questo è perché stai parlando tu, Steph Questo è perché stai parlando tu Allora parla tu, dai No, no, dai, lo sai tu cosa dobbiamo fare Ti ho anche levato la pioggia, che vuoi? No, 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 no Però cioè non è una coincidenza che in ogni video in cui tu inizia a spiegare poi inizia a piovere, capisci, Steph? Dai, Steph, non hai finito di spiegare, che devo fa? Non ti interessa Allora, ma Ma, 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 ma Ma, c'è la seconda segretta numero due Allora Oh, 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 ho sbagliato Ok Credo Fere staggiano errori su errori Io per fortuna non sono fere Allora, praticamente, lui mi dà un piccone di legno Gratis Anche a me Per 32 di pietra mi dà quello di pietra Per 16 di ferro mi dà quello di ferro Per 16 di rubino mi dà il piccone di rubino Per 16 di safiri mi dà il piccone di safiro Per 16 di malachite mi dà quello di malachite E infine per 10 di diamanti mi dà il diamond pkx E qua c'è un libro Il libro? Magari c'è scritto qualcosa Vediamo Ah Ah Ci sta Mi sa che dobbiamo premere questo bottone Sì Io l'avevo già premuto Ah, ok E si parte a minare, certo Certo, certo, certo Ma vado proprio dritta così? 3, 2, 1, via Sì Che arriva al piccone di diamante e ferro vince Ah, quanti ne servivano? Tipo 32 32 Bravissima Ma si va molto in fondo? Puoi fare quello che vuoi Ah, ok Cioè, non so dove si trova Oh, qua c'è già qualcosa di strano Ma non so se le posso prendere No, 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 no Tu devi partire con l'obiettivo di farti il piccone di pietra Poi quello di ferro e così via Infatti per ora non prendo gli altri minerali Perché non sono sicura di poterli picconare con quello di legno Rischi solo di spacarteli Esatto E di sprecarli Ok No, per ora è una gara a chi trova i primi 32 E a chi trova già tanti minerali da lasciarsi scoperto per dopo Esatto Io ho trovato anche già un diamante Davvero? Sì No, io diamante E poi è un blocco stranissimo Tutto blu Diamante no, ma tutti i blocchi strani sto trovando Cioè, questo blocco non l'ho mai visto Non so cosa sia Puoi vedere? Guarda Ah, quello no, non l'ho visto anche io ancora Stranissimo Sì, stranissimo Ok Ok, perfetto Di qui va bene Era 32, giusto? Sì Ok, allora a me manca molto poco Non so a te Ma a me manca molto poco 31 Fatti, fatti 32, fatti Allora, devo correre Oh cavolo, mi sono incastrata Ok, vado È già una vera e propria gara ormai Si è capito dall'attenzione che c'è tra me, Fere Ok, allora Salve il sito del segreto numero 2 Mi serve il piccolo in pietra Grazie Ah, il teleport mi dimentico dove è Ok, ecco qua Allora, questo lo posso Non ho guardato il prossimo, però E ferro 16 Ok, ok Ferro 16 è un casino Sì, a voglia A voglia Cioè, non so tu, ma io ne ho due Io ne ho uno Ne ho visto solo uno Tutto il resto è tutto particolare Te l'ho detto, ancora non Non mi azzardo a prenderlo, però 16 è tosta Sì No, no, per tutto il resto Secondo me ci serve il ferro Quindi dobbiamo aspettare il piccolo in ferro Ok, ecco un altro di ferro Minerale al momento Sì, 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 sì Penso proprio di sì Pensavo di aver avuto un po' di fortuna Invece non credo proprio Ok, sotto hanno un sacco di blocchi strani Però con il ferro sono a 4 Ok, anche io Uguale, uguale identico It's not good It's not good Tanta roba strana Anche tu hai 4 o 6? Sì Ok, qua c'è la bedrock Quindi non c'è altro Di qui Ok Accidenti Ma quando arriviamo alla terra sotto Non c'è bisogno di andare più in profondità Sai che non lo so? No, dai, spero di no A me è venuto il dubbio Io sto spaccando un po' Ma becco solo terra No, dai, poi sotto c'è la bedrock Cioè qualche Ok Qualche, diciamo, blocchetto di terra E amen Allora, a me sta andando molto bene Te lo dico Ma malissimo Sono a 6 Ti sto battendo, vero? Va bene Va bene Sette Dai, porca miseria Non le sto trovando Però qua c'è buio Ho bisogno di riarrivare alla luce Non vedo più una ceppa Ma perché il ferro è così raro? Cioè, è solo ferro È solo ferro Non può essere più raro di altre cose Ok, un altro In realtà guarda che il ferro comunque è tosto A trovare su Minecraft 8 Va bene 8 di 16 Cioè, sono a metà Oh, mamma mia Sei sicuro, sicuro che fosse 16? Boh Io sto anche rompendo il piccone Eh sì, vabbè Però tanto hai fatto talmente tanta pietra Che te lo ricompri Assolutamente sì Non è un problema quello Ah, mi sembra che non si trovi troppo in profondità Quindi Ok, un altro E sono a 9 Sì, io sono rimasto sempre alla stessa altezza Devo essere sincero Ti do questo piccolo consiglio Ma questa altezza sinceramente ne sto trovando di più rispetto a quando andavo più in profondità Ma ho praticamente rotto il piccone 10 Beh, adesso che andiamo a ricomprare il piccone controlliamo se era davvero 16 se me lo ricordo bene Bedrock Quindi niente Devo andare di qui Mentre comunque sto già trovando tanti blocchi per dopo Quindi a priori mi sembra utile questo pezzo lento Secondo me vorrà dire anche essere veloci dopo Anche secondo me Perché poi sei già bene o male dove sono Sì Allora Ok Pronto, devo andare a comprarlo Anche io Ma dimmi te Opla, opla Veloce, 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 veloce Ok Sì, è 16 Allora, è 16, ricordavo bene Ah, che prurinto Vabbè, me ne prendo due di picconi perché mi sa che qua ci dovrò Stesso ragionamento, cara Ci dovrò rimanere per un bel po' Stesso ragionamento Però io sono a 11 Quindi me ne mancano 5 Ok Uh, 12 Ma dai Io non le trovo mai Cavolo, sono solo a 7 13, 14 Ma che schifo Cioè io quando le becco è uno da solo 3 E l'altezza, guarda Ti do poi questo piccolo consiglio Dopo che scavi 3 di altezza A 3 di altezza c'è tutto 3 è preciso Io a 2 lo trovo sempre però, eh Secondo me devi andare a 3 e ce n'è di più Non lo so Ma che ero 2 ore a 3, non ne trovavo mai Ok Guarda, lo sto trovando sempre a 2, guarda Anche ora Va bene Oh, magari sono diverse piattaforme Può essere Ok, sono a 10 Ok Ho trovato un altro blocco di ferro Ma mi sembra davvero inutile Quindi non perdo tempo a scavare Ora non sto perdendo tempo Non l'ho scavato Ok Meno 1 Ok, ne ho trovato un altro Almeno sto tenendo testa Sto cercando di recuperare Vabbè, che devo fa? Eh, questo vantaggio è enorme Non so se potrei recuperarlo Ho avuto una fortuna incredibile Uh, ne ho trovati qui Ne sto trovando molti ravvicinati Oh cavolo Vediamo che 3 è la zona più buona Sì, il problema è che adesso Dato che ne manca solo uno Sto avendo un po' di difficoltà Ma uno lo trovi facilmente Attenzione Ok Ho visto bene Mi ho trovato in turno a 2 Vabbè, che scherzo 16 Ah, qui c'è la bedrock Corri, Steph Corri, Steph Corri Di qui? Sì, ok Ok, 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 ok Teleport Perfetto E buongiorno, assistente segreto Mi serve il piccone di ferro Grazie mille Steph, aiuto Mi butta me ne 3 16 di rubino Non ce le ho Allora, 14 16 16 di rubino 1 2 Sono tristissima Cioè, non vale Ho sempre sfortuna nella mia vita Ok, qui ce n'è 3 15 4 5 6 E se questo però mi dà un botto di rubini Ce l'ho fatta, già Dai, non ci credo Me ne manca uno Dai, non ci credo Vabbè, è facile però Se trovi il blocco di rubini Tene da 9 Così, secchi Allora, bacio, 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 bacio Tu sì che sei bravo, Steph Grazie, cara Tu sì che sei bravo Grazie Sei molto gentile Ah, ecco Perfetto 16 No, io sono ferma qui, eh Cioè, non so che dire Non andrò mai avanti, secondo me Perché è troppo poco il ferro che c'è nella mappa Quindi non andrò mai avanti Ok, piccone di questo Perfetto E adesso devo prendere 16 blu Cioè, mi sta anche venendo il dubbio che non ci siano 18 Dai, sì, ci sono No, secondo me no Questo è blu Ok, mi si è rotto un altro piccone Due piccoli ci ho consumato per sta roba, eh Che sfiga che c'hai, vero, eh Ma, Steph, ce n'è talmente poco Ma quanto sei? 17 Ma Penso di aver finito tutto Spera, ma sei 17? Eh, erano 16 Cioè, l'ho fatto ora, Steph Ci sono da due ore Mi sono una noia mortale, cioè Ma stavo pensando a 18 Non so perché Allora, ok Ho già perso le speranze Quindi non è che Ok, ok Ma povera, dai Dai, non mi puoi mettere così poco ferro Ma ce n'era Ma Steph Cioè, ho finito tutto il perimetro di Bedrock Ferro perché non eri a tre di altezza No, a tre non ce n'era neanche uno Erano tutti a due Ok, piccoli in ferro Me lo dovrò far bastare Perché non penso che ne potrò Mai fare un altro No, vabbè Ma Cioè, non ho idea di quanto dura Allora, Rubino deve essere questo rosso, no? Ma è questo? Ah, sì, ok Stavo confondendo i colori Sì, il rosso, quello lì Se trovi il blocco vale 9 Quindi devi stare molto attento A cercare proprio il blocco Tutto rosso Eh, il blocco non l'ho mai visto Mai visto? Eh, perché anche io l'ho trovato mentre cercavo 16 Dimmi, cara Ne servivano? Eh, 16 Sempre 16 Tutto 16 Ok Adesso me ne servono 16 verdi E io il verde l'ho visto davvero poco Cioè, credo che adesso Ah, io blocco di Rubino Sinceramente non l'ho mai visto uno Che ti succede? Eh, ho bucato un blocco Oh, l'ho trovato il blocco Il blocco rosso Ho bucato un blocco Ed è comparsa lava Ma davvero? Sì Ma come è possibile? Penso a una trappola Ok Spero che non mi capiti mai Allora Ho rischiato di schiatarci Allora Qua non c'è nulla Ah, io ne ho 15 Ne ho 15 Assurdo Ne ho 15 Ma che sfiga Ho trovato anche il blocco Che mi ha portato a 15 E basta Questa è la mia vita Ti dico che comunque Tu stavi dando per scontato Che avrei vinto Ma i verdi mi stanno dando Non pochi problemi Eh Ho notato Comunque è molto veloce Questo blu Ottimo 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 Dai Mi manca un rubino Perché non riesco a trovarlo Non ne trovo Non ne trovo Voglio Non ne trovo Porca miseria Voglio andare a scavare qua Che non ho mai scavato qua Magari mi porta bene E ora che faccio? E ora che faccio? Guarda Tuttora lo sto trovando il ferro Guarda Ok Te l'ho detto che c'era Ok 16 Hai avuto Sto tanto sfiga Te l'ho detto che c'era No ce n'era Ma Non così tanto Dai C'era E' giusto E' giusto Che sia difficile Perché altrimenti Uno si rascia il piccone migliore Non c'è neanche la sfida Però mi ha fatto arrabbiare Ok piccone di rubino Ok preso Quindi quelli blu adesso Come li riconosco quelli blu? Quelli blu io li ho reputati molto semplici Francamente Però Aspetta Blu o verdolino? Eh Blu Prova a farlo Eh sì è questo Ok Sì Anche io ogni tanto li ho confusi Eh I verdi non c'è Non ci sono Allora sono a 10 Non ci sono i verdi È l'unica spiegazione Non li trovo Ok trovati Trovati questi blu A quanto sei scusami con i blu? Avevo già trovato due blocchi blu Quindi ne ho trovati 19 E ho Scavare tutto per cercare quella scelta di ferro Almeno si è rivelato utile Cioè mi hai recuperato Cioè che cavolo vuoi? Mi hai recuperato Eh vabbè che ti devo dire Alla vita Alla vita sta Ma abbiamo del cibo Perché inizi ad avere un bel botto di fame? No io sto vivendo con la fame Ah non ho guardato i prossimi 16 verdi I verdolini? Devi usare il piccone blu E devi prendere 16 verdi Sicuro sicuro dei verdi? Sì Hai mai visto un blocco verde tu? Sì sono piena Blocco? Ah blocco no Ah Con tutti i cosi Quindi vabbè Però sono piena di or Quindi Non credo che ne ho così tanti Sì Ho scavato tutto Quindi sì ne ho così tanti No Sì No Fere Assolutamente sì Fere sono ancora 9 Eh non mi interessa Sono già io a 9 Non puoi farmi la remontata adesso? No 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 Steph mi ha perso un creeper di quelli con i fulmini Da un blocco No mi devo trasportare da te Non so più dove sono Cioè com'è possibile eh? Cioè prendi i creeper quelli con i fulmini Mi sta crashando il gioco Mi sta Davvero? Mi sta crashando il gioco Mi ha fatto crashare il gioco Quei creeper No ci sono Ci sono Ti ho ripreso Cioè non lo so Sapevo che c'erano delle trappole però Sì ma cavolo Ciao Non ti trova Non lo so Ok ho scritto male Aspetta arrivo Ok E di nuovo l'ho riscritto male E qui lei stanno davanti Appunto Perché mi sta venendo fretta È quello Avevo paura della remontata però Quel creeper è stato ottimo Come ne esco da qui? Ha tolto il morale di fere E ti conviene andare in game o dal volo Perché il bottone Credo che porti solo nella mia zona no? Ok beh sì Io sono esplosa Sì ma mi ha distrutto tutto Adesso che faccio? Eh No Sarà tutto lì per terra No Steph Mi ha distrutto tutti i blocchi totalmente Non ho più blocchi da minare Stai scherzando? Eh sì E potrebbero essere per terra Tutte le materiali? Non lo so Potrebbe averti fatto comodo Mi ha distrutto più di Di metà della base Quindi non so come fare Fantastico No non c'è niente in terra Non c'è niente Non so come fare Cioè non ho più Ho pochissima roba da minare Vabbè Continuo con il poco che ho Ok Fammi sapere No vabbè Non so che dire Ma che sfertura c'hai oggi? Non lo so Da me è capitata della lava È stata pericolosa Però l'ho schivata Perché ho buoni riflessi No no guarda Sto andando anche sotto Non c'è una ceppa Totalmente Totalmente Beh se ti può consolare Da me non ci sono i cosi verdi No da me ce n'erano E ne avevo trovati un botto Ho detto cavolo Almeno così è utile Aver fatto tutto Quell'accidenti di Di patatrack Per il ferro Ma mo non c'ho più niente da minare Ma sono esplosi Non so neanche se riuscirò Esatto Sono esplosi Erano tutti lì Cioè probabilmente Non riuscirò a finire la sfida Perché non ne ho più È esploso tutto Non so come fare Non so come fare Mi sta facendo sentire in colpa Eh vabbè mi è esploso tutto Che ti devo dire Povera Dove sono i blu Dai ce li avevo tutti vicini In una zona già pronti Perché mi hai capito Cioè avrei preferito la lava Donate a ferri così verdi Allora Ok Questo cos'è è blu Non è verde Sì ma cioè Mi toccherà venire a mina da te Non so che dirti Ah buona fortuna Perché non ci sono Sì ma mi esploso Cioè tu devi vedere Io poi te lo faccio vedere Il mio campo Steph Lo faccio proprio vedere Che è tutto rotto Per la metà io non ne ho più Vabbè Continuo Dai ne sto trovando Dai Ok Cioè tipo a quanti sei? 13 Ti rendi conto? Cioè tu mi stia fatto E ti rendi conto Quello che ho fatto io col ferro? Mi stia fatto tutta la ramazzina E sei a uno da me Ma che cavolo vuoi? E io ero pure lì Che provavo pena Perché sono preoccupata Per le prossime sfide Non c'ho più una ceppa io qua E ti bastano 10 diamanti È finito eh Ho però trovato un blocco rosso Ma non mi serve adesso Sì anche io L'ho trovato dopo Maledetta Hai capito? Che sta Tu sei un maledetto A far pena E mi stava per ribattere Sono a 15 Ma perché li ho trovati tanti prima? Ce li avevo tutti pronti Ma mi sono tutti esplosi 15 Ok Ne stai trovando? Non più Che sei zitta zitta No non più Ma guarda Credo che siano giusti i 16 eh Eh Allora mi sono esplosi Ma che è normale che No Ho fatto io casino Cioè se sono giusti i 16 Come faccio? No non ho più niente Ho guardato tutta la mappa Tutta? Sicurissima Sì sicura Non ne ho più Non ne ho più E beh Cioè tu non hai idea di quanto mi esplosa Steph Più della metà Ho solo un lembo di terra minuscolo No perché Però posso togliere giusto questi Per vedere se Te lo dico giusto Perché io pensavo di aver finito E ancora non trovo l'ultimo E sto bucando Tutto 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 Steph io sono alla terra Fino all'ultimo Sono alla terra Più di così non posso bucare Perché sotto c'è il vuoto E non ci sono Capito? Vabbè Mi manca questo angolino Dai lo faccio Vediamo se trovo qualcosa qui Ma Boh Ne dubito Il mio verde Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Trovo tanti blu Tanti rossi Allora Ma diamanti ne hai? No non li ho ancora fatti Qualcosina Tipo tre ne vedo Proviamo a fare Se riesce a levare Dieci diamanti anche io Te la senti? E chi vince? Chi fa i dieci diamanti? Eh ma con che piccone Con questo blu? Sì sì Puoi romperla Dai proviamo Ma non ce li ho dieci diamanti Qui dentro Secondo me sì Uno Due Ok Tre Ok Quattro Ok Sai che Ho il dubbio Che ci fossero 16 verdi tondi tondi E il mio ultimo verde Mi è morto nella lava Anche secondo me Magari sta lì sotto No Steph Io non ho Altri diamanti Mi dispiace Io al momento Sono bloccato con No io ne ho quattro E non ne ho altri Perché ho scavato tutto Quindi sono sicurissima Di quello che c'è Di quello che non c'è Perché c'è solo la bedrock E la terra sotto di me E non ho altro La mia sfida finisce Con quattro diamanti Steph E io ne ho sette Ma Mi sembra strano No penso che fossero Abbastanza contati Perché così era più difficile Trovarli Però cavolo C'era il creeper Che mi ha fatto esplodere tutto Non doveva esplodere La mia mappa E vabbè Ma a me non è esploso nulla E non ce li ho Quindi non vorrei Che in mezzo alla terra Fere Ci siano Steph È tutto bucato Qui sotto Io non vedo niente Secondo me è l'unica spiegazione Allora Guarda com'è sotto da me Se vuoi vieni anche a vederlo Non c'è niente Cioè tutta la mia Adesso la mia terra È tutta fatta a zolle Bucate E non si vede nulla E ma allora Tu non hai minato Conto me Guarda Cioè io non ho più dubbi Capito Anch'io Io ho tolto tutto E ma tu non ce l'hai così tanto E che ti devo dire Steph Non lo so Io non vedo niente qui sotto Se vuoi provare a minare la terra Allora Voglio controllare Vediamo Non lo so Controlla la parte della lava Magari Cioè No la lava è comparsa da un blocco Come il creeper Eh ma magari ti ha coperto qualche blocco Che non hai toccato No no perché l'ho tolta poi la lava Ok Basta mettere un blocco e la togli No Steph Anch'io sto distruggendo tutta la terra Che a piccola non c'è una ceppa No probabilmente la lava mi ha bruciato Tutti i diamanti Che mi servivano Come a te il creeper Scusate Ma dai Che vita triste Ma Ma ufa Era una ceppa bellissima Esatto Super avvincente Anche io non è arrivato il creeper A distruggermi tutto E a te la lava Un po' triste Ma no Sì non trovo altro Mi sembra Sì mi sembra che non ci siano Mi sembra che non ci siano Ho detto Però mi sembra stranissimo Cioè guarda la mia Stai in alto Sì Riesce a sbirciare Ciao Guarda Guarda come si è ridotto Io avevo Praticamente un buco enorme E vedi che qui sotto Guarda non c'è nulla Perché tutta la terra rotta Che ti sta venendo in mente? No non avevo notato Quanto era figo il pavimento Sotto di noi Ah io sì L'avevo vista Bello Bellissimo E quindi Steph E quindi pareggio Ok Mi sembra la cosa più Tristamente dichiariamo Il pareggio Già Super depresso Però Dichiarerei Il pareggio Vabbè Ci fermiamo così raga È stata una bella sfida È stata super emozionante Mi stava divertendo un sacco Molto figo il concept Davvero 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 bello Dovremmo farlo Magari in un altro modo Con trappole diverse Che non mi fanno esplodere metà mappa Ok Davvero bello però Mi è piaciuto un sacco Bello 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 Mi è piaciuto proprio un sacco È davvero divertente In ogni caso Ci fermiamo così Come sempre qua sotto Ci sono altri video Iscrivetevi al canale Campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao